Afferro la spada della fede. Cosa può farmi un uomo? Contro i miei nemici avanzo, non sono da sola. Il leone di Giuda è con me. Egli rugirà e metterà tutti in fuga. Metterà in fuga le persone violente, le persone che mi opprimono, che mi fanno guerra, le persone che mi perseguitano, che hanno il miele nella bocca ed il veleno nel cuore, che mi accusano. Il mio leone rugirà e loro saranno dispersi tra la loro stessa oppressione, in mezzo le loro stesse frecce. Io lo so, ne sono sicura. Il mio leone combatterà con me ed io, con il suo aiuto, vincerò. Dove sono i miei nemici?